è bella tutti ragazzi io sono in italia e oggi siamo qui tornati su siamo qui sul livello 11 di odyssey il livello più lungo del gioco letteralmente e oggi sono qui per completare per finire tutta la zona 1 allora il suo livello non mi interessa molto l'uolo l'importante è completarlo e completare i livelli non tanto prendere l'uolo dove lo che fate una cosa extra mi interessa la cosa principale ecco perché il suo livello è molto difficile perché adesso può sembrare un pochino facile però mi giuro che non va oggi sei più bello del solito non ho parlato sicuramente non mi succederà la cosa più brutta di sto mondo da ieri ci ho messo tipo un'ora quindi è ovvio che sono anche piuttosto preparato lo so a memoria intendo giuro che sembra l'ho complito mamma mia come mi arrabbio perché ieri ci ho messo un'ora e manco l'ho finito registrazioni persi pianti o no se me lo ho complito mi arrabbio veramente perché ha più l'attentativo è già stato a questo punto tipo un metallo questo è più grande una lunghezza questo durativo il doppio se non è il triplo di livello normale queste parti sempre la non c'è niente non si sa mai vado a colpire il quale era un po ingannevole tutto tutto nooo mancano quello vabbè non fa niente vabbè non fa niente non ci credo livello sono tre minuti no 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 io non ci credo ieri ci ho messo un'ora non l'ho finito anche tre minuti l'ho finito il primo colpo vabbè mettiamo il nostro solito igi allora ieri poteva anche non giocare dai ma veramente ma veramente stiamo scherzando siamo al boss comunque che sono che pia andavano così tutti i tasti mi avevano dato strano scusate se mi incontro il turismo fa un po schifo oh però raga e così ce la dovremmo ottenere per oggi ma solo per questo video la prossima volta la metto meglio Oppure aspettatevi se non riesco a mettere no Ok raga dovrebbe essere meglio così Ma vieni al boss perché ti dà tutti Prima i tasti di controller Così sono avvio Sto già a tex Buono Ah perché è subito il boss Oddio Ma gli devo dare i tipi calci Ma sono doppio Si può fare? No 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 Questa però è infame È infame Se vuoi sbagliare una cosa è tutta a rabo Vabbè quel livello è comunque la più difficile Sto a parte è un compo infame Sto a dire il boss Meglio così va Finiamo qui Ma questo tiene il bonus Perché non c'è uno Infamissimo Infamissimo Pochissimo tempo mi stai dando per reagire Non ho capito cosa devo fare Non mi fai capire cosa devo fare Vabbè Sto a giocare È un gioco di memoria Più che asa Però dettagli Infame C'è un infame Eh c'è un infame Ok No ma che infame Vabbè Vabbè a meno la canzone è bella Vai I infami sono I infami sono tutti Vabbè I boss sono tutti infami No ma che è bello Fai i trapessi con le scia No no qua ho sbagliato io Qua ho sbagliato io Comunque mi piace che La serie consiglio Sbaghe Infatti uno è andata bene Quanto almeno quando vi sto io Che per me sono molte Non è no Un canale creato un paio di mesi fa Quelle sezioni sono altre In cui raggiungono alti risultati Proprio tempo No Per me fa bene Già tanto che I primi dieci iscritti Li ho fatti letteralmente In una settimana Mi fa piacere questa cosa Mi fa molto piacere Che sia andato bene Quel video Guarda la parte 2 oggi Devi morire Ancora Sti ostacoli Il doppio Però Potevi anche risparmiartelo Vabbè Prima o poi Esatto lo finiremo Sto boss Ma io oggi Faccio solo il boss E poi Faccio un altro video In cui Faccio la La zona 2 Perché sennò Poi diventa Troppo confusionario Ma se non glielo Dario al punto giusto Chiama Faccio pure Sì Vabbè Dammi meno tempo Per agire C'è Attaccato proprio C'è Solo questo Voglio dire Che mi stavo Attaccato Come mi sono salvato Oddio Oddio Vieni 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 Becco Impossibile Mezzo impossibile Mezzo impossibile Non so se è più difficile Questo livello Oddio Oddio Non so se è più difficile 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 Ma perché Perché mi ho dato Non ho dato il calcio Però eh Si è visto Il calcio però Si è visto C'era addirittura La scena di distruzione Non so perché Mi ha fatto morire Con lo stesso Vabbè Ora lo faccio tutto Sono serio Sono serio Sono veramente serio Vai Lanciami le cose Boss malefico Cattivo Boh vabbè 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 Dettagli Allora 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 Solo una cosa Ma io nemmeno ho visto Un altro tasto Per blocco Non è che Poi nella zona 2 Dobbiamo bloccare Qualcosa Non bastavano Ste cose I calci No E ho visto Pure il tasto Che altamente La fece il destro Quindi Per favore Non è che Dobbiamo bloccare Anche le cose Dietro Di noi Dettagli Cioè Prima la vedo più veloce Di vero Ora la vedo più Nento Guarda Questa parte È bella Alice Forse ho premuto Ah forse 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 Dai Si è sentito Si è sentito Però il tasto Che avevo premuto Almeno io l'ho sentito No guardalo Guardalo Intanto io faccio Gli arco Guarda Dai che se non voglio Se mi danno il bonus Ok Per ora È abbastanza facile Per ora Perché Sbaglio Dimmi almeno Che non è lungo Tre minuti Come prima Intendo Dimmi che Non ti dà Dov'anni Non ti dà Non ti dà È ampio Non ti dà Non ti dà Io Non ti dà Po ora infamone lui fa così non ce la faccio più no basta ora divento Optimus Prime un po' non ce ne dovrebbe avere tre vite dovrebbe avere tre vite io premo però io premo no no mi sono scocciata a fare sempre le stesse cose se si salti si metti di 1000 iscritti non so infame infame l'ho premuto l'ho premuto l'ho premuto se vabbè il suo gioco è tutto drogo io spero di finirlo prima delle vacanze di Pasqua prima della fine delle vacanze di Pasqua qua arriva l'estate che ancora fa lo sottogioco in verità sta salga in generale non voglio spoilerare quale sarà il prossimo gioco aspetta un attimo aspetta un attimo in generale il progetto il progetto 1 mamma mia non lo sopporto più io sto livello peggio dell'altro proprio non ce la faccio più basta lo devo completare ma lo so posso lo tiro tentative poi un altro video faccio ora mi dico che mi faccio tutte le stesse cose pure io che gioco prima dice no dai naturalmente due minuti prima ok perché sbaglio perché non mi interessa niente che non ho l'almeno su quello che è per ora sta parte l'abbiamo capito basta sarà attaccato a me si che sta per succedere si vabbè si ragazzi ci vediamo in un prossimo video perché questo è proprio un video a parte cioè non si può vabbè ci vediamo in un prossimo video e ciao 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 ciao